Roy, ne ho abbastanza, non ce la faccio più, voglio che se ne vada. Provvedo subito. Che cosa? Vuoi che Castle se ne vada, d'accordo? Ma, come la mettiamo con il sindaco? Questa è casa mia, non è il sindaco a decidere, sono io. Dovresti saperlo ormai. Ma io... Avrei potuto mandarlo via in qualsiasi momento avessi voluto. Se l'ho fatto restare è stato perché aveva un buon effetto su di te. Kate, sei il miglior detective che io abbia mai addestrato, ma non ti divertivi prima che arrivasse lui? Noi parliamo per i morti, è il nostro lavoro. Siamo tutto quello che rimane loro quando i cattivi li privano della voce. Glielo dobbiamo, ma non dobbiamo morire per loro. Ha detto che non vinceremo. Ha ragione. Ho passato gran parte della mia vita con questo distintivo e di una cosa sono sicuro. Non ci sono vittorie, ma solo battaglie. E il massimo che puoi fare è sperare di trovare un posto in cui prendere posizione. Quando l'avrai trovato... ...sarò accanto a te. Grazie. Grazie. Grazie.